Oddio raga! No! No! Si! Ancora fa? No! Che avevo fatto! C'è un fiore che avevo fatto! Oddio! Oddio! No! 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 Io sp... Eeeeh! Che scemo! Che scemo! Salve a tutti ragazzi e bentornati a me show! Siamo tornati su Fortnite e questa è la Spider-Man Challenge! E quello che state vedendo è la Death Run che abbiamo costruito per questa Challenge in modalità creativa! No, in realtà non lo state vedendo perché solo dopo ho scoperto che non c'è la modalità replay in creativa! Però ragazzi vi assicuro che è una Death Run veramente assurda! E sarebbe stato bello fare questa Challenge con questa skin che state vedendo! Era una mod che era uscita qualche mese fa! Bisogna andare a modificare la skin di Omega! Però ragazzi significa anche essere bannati da Fortnite e dalla Epic! Quindi insomma io ve la faccio vedere però diciamo che non la utilizzerò per questa sfida! E sì ragazzi è sempre lo stesso giorno perché sto registrando un sacco di video con questo maglione natalizio! Quindi facciamoci gli auguri di Buon Natale! E questa sfida ragazzi è fatta in onore all'ultimo episodio del DLC che uscirà il 21 dicembre! Che appunto completerà la nostra storia su Spider-Man! Di cui vi lascio il trailer in questo momento! Questa è la Sable International! Siamo autorizzati a usare la forza! Dimmi dove si trova Hammered! La regina delle entrate in scena! Non intralciarmi o dovrei subirne le conseguenze! Ehi pensavo fossi un tipo ragionevole! Invece hai permesso ad Hammered di rubarmi armi e materiali! Prova a schimarlo! Fagli male! Il mio compleanno è il 21 dicembre! Ma che bel regalo che mi fai! Iniziamo e finiamo la serie di Spider-Man anche col DLC! Vi ho voluto mettere il trailer ragazzi perché secondo me è fighissimo! Ma che faremo oggi ragazzi? State vedendo la costruzione di questa Death Run! Abbiamo costruito questo percorso pieno di trappole e insidie! E dovremo completarlo senza toccare e senza cadere a terra! Quindi utilizzeremo solamente il rampino! Esattamente come fa Spider-Man quando volteggia fra i vari palazzi! Però dall'altra parte del percorso ci sarà quell'infamone di Jumpy! Che proverà in tutti i modi a non farcelo fare! Quindi ci sparerà, ci tirerà roba addosso! Ragazzi è molto difficile perché state vedendo quanto è grosso e quanto è pieno di insidie! E soprattutto io non so se proprio se ce la possiamo fare fisicamente! Non è stato testato! Esatto! Non è stato testato! Allora ragazzi più o meno siamo sempre morti lì! A quella curva lì! Mi raccomando ragazzi lasciate un bel mi piace per supportare queste modalità! Queste comunque cose creative! Sarà pure difficile dover switchare tra rampino e rampino! Sei pronto Giampiero? Lo faremo automatico sì! Vai! Si inizia! Io non so! Ragazzi! Mamma mia guarda come spara! No! Uh! Impossibile prenderti fra... No! No! Aspetta aspetta sono andato troppo su forse! Non ti prendo mai! Non spara! No! Mannaggia il cuore! LOL! Lo sai perché sono morto? Perché ho finito! Tu mi hai detto... Io li compio in automatico! Non devo che fai in automatico! Ma guarda sei proprio un becco! Cioè ragazzi capito che fa? Che tecnica che usa per vincere! Però dai ero arrivato bello lontano! Infatti! E comunque credimi che è impossibile prenderti! Poi vedrai! Vai! Eh! Eh! Bravo Giampier! Spara a me quando sto a terra! Oddio! Oddio! No! Io ho sparato! Eh! Che scemo! Che burro! Ma avevo sparato nel momento in cui non dovevo! Che burro! Facciamo questa modalità per darvi anche delle idee! Potete rifarle a casa eh! Tosta! 3,2,1 Vai! No sono andato sopra! Porca zozza! Oddio! Oddio ti ho preso! No! Oh! Ragazzi ci siamo scambiati! Faremo un po' e un po'! Adesso tocca a Giampiero! Secondo me neanche te ce la fai! Effettivamente con la Desert Eagle è difficile! È molto difficile! Dov'è? Una! Ma cosa come si fa? Vai! E fra! Non è easy! Bravo! Oh no! Non è andato giù! Aaaaaaah! Boia! Ah sì! Parti senza il via! Ah quasi! Ah ragazzi! Ah! Ah! Mannaggia! No! Cavolo! Eh lo fanno! Lo fanno! Per poco! Guarda tutti ci scrivono! Oh ma io sono Spider-Man! Io ce la faccio! Oh tu inizi sempre! Guarda! Guarda che! Che becco! Guardalo! Bravo Giampiero! Eh! Oh! Oh! Mo ce la fa raga! Mo ce la fa! Guarda se sta zitto! Non parla! Oh! Ce la sta facendo! No! Eh no! Eh no! Oh! Comunque è fattibile! Fra! Ma ce la devo fare! Adesso sono troppo fagustato! Aspetta! Famolo insieme! Famolo insieme! Via! Vai! Uh! No! Stiamo andando su! Ma porco di Giampiero! Ma ancora non muore! No! Arca troia! Eh infatti! In realtà l'idea originale era solamente scappare e farsi sparare! Ma avete messo troppe drappole! Ma sei andato con le menti sbagliate! Vai! Io inizio Giampiero! Non me ne frega niente! Vai! E va su! E va su! E va su! S'aggrappa! Porca trada! Ho scoperto la tecnica suprema! Eh pure io me sa eh! Dai non sparare! Eh dai! Eh che simpatico! Ragazzi tutti a ride! Due milioni di iscritti! Io inizio! Vai! Io te l'appresso a te! No! Oddio! 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 Non so ragazzi! No! Non so se era a città! Restavo per dire! Non so ragazzi se a città! Ma in realtà no! Perché l'importante è non cadere! Mi stai attaccando sulle mura! No non sono andato sulle mura! Sono andato su... Cioè alla curva! Ho fatto la curva un po' stretta! Oh io ho fatto il trick! No! Ho fatto il trick! Arco 2! No! È impossibile ragazzi! Io ho range quinto! Oddio! Ok! No io ho fatto il trick! Ok! Ok! Piano piano raga! Piano piano! Oddio! Oddio! Oddio raga! No! No! Si! Che cosa fa? No! Che avevo fatto! C'è un fiero che avevo fatto! Dov'eri? Dov'eri arrivato? Eh non lo so! Calcola stavo per terra e non so come ma ha spinto in alto! Te giuro! Non so come ma ha spinto in alto! Trae dove ne vai? Io ve li farai provare ragazzi! Ve lo farai provare perché so che tanto qualcuno dice... Oddio! Il cheat regalo il cheat! Oh dai! Ma come cazzo fanno a prendermi ste trappole? Mike! No! Sto bannando Mike! Eh? Dove stai gannando? Eh stavo a fare spiderman ragazzi! Io non ho detto che c'è un percorso! Non lo fa un po' come il livare! Frega frega! Ma guarda che se... Oh oh! Oddio che è successo? No 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 no! Perché vola? Perché vola? Cos'è che vola? No raga sta a volare! No Gian Piero mi ha volato! Ti lo vuoi dire? No! Non mi ha sparato! Oddio! Oddio! Sì non ci crede nessuno! Ho perso il paracadute! Vaffanculo! Te l'ho detto che sa... Ho perso il paracadute! Ho cliccato barra fra! No! Non ci credo! Non ci credo! Oddio raga! Oddio raga! No! A me mancava pochissimo! Era l'ultima curva però fai conto! Comunque sì ci sta un pezzo che se lo superi... Diciamo che... È più facile tra virgolette! Non è che è più facile! Diciamo che stai a buon punto ecco! Oddio! Tu cazzo dove andava? Ok! No 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 no! Ok! Ok! No! Puggeo di piedi! Gian Piero zitto! Mike zitto zitto zitto! No non mi supera! Levate! Oddio! No! Marta dove stavo? No! Marta dove stavo? Marta dove stavo? E con lama! Ma perché mi è andato sopra? No fra per pochissimo! No mi è andato sopra Gian P! Mi è andato sopra! E poi mi attacco a qualcosa lì! Non vado sopra! Faccio così! Di nuovo non vado sopra! Sì Gian Piero non ti sta vedendo! Ok! Ok allora va qua! Oddio! Oddio che cacchio si è attaccato? No dai! Oh io devo costruire una mo... Qua senti qua bisogna chiudere! Che non è giusto regà! Basta! Io pure l'ho capito! Faccio così regà! Perché liscia? Perché? Ah ragazzi questo è l'ultimo tentativo perché mi sto triggerando! Questo è peggio dei Dark Souls ve lo giuro! È peggio dei Dark Souls veramente! Allora ragà! North! Ma perché non lo fa? Fra fra io ci sono! Ah è il mio! Il mio! Io ce l'ho! Giampino! Non credo che ce la fai! Manco se te vedo che ce la fai! E questo è il fatto! No basta tranquillo Michele! M'arrendo ragazzi! Sto registrando io! M'arrendo! 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 Dai grandi poteri derivano grandi responsabilità quindi m'arrendo! Ti giuro! M'arrendo! 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 No sono morto! No! Jumpy! 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 Oh! Lo spara! Spara! No! 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 Basta! 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 Non son morto che è successo jumpy non son morto ragazzo sei a terra ma non sono Mike ce l'ho fatta vaffanculo non c'ho il gameplay e l'audio ancora non ho staccato niente ooo e apro pure il lame una jug wow grazie e vi faccio pure un balletto spero che sarà un finale migliore il finale di rc che giocheremo dal 21 dicembre quindi ragazzi segnatelo sul calendario mettetevi la sveglia io vi do l'appuntamento Ciao a tutti da Mike Scioscia alla prossima ciao ragazzi ciao Il bollo ma la bolla il passerò la passerà ma tutti quanti amano Mike Scioscia Tutti quanti amano Mike Scioscia